Superbonus, la maggioranza cerca l'accordo in vista dell'arrivo del numero di euro. Era necessario intervenire su una misura che metteva in pericolo i conti pubblici impedendo interventi in qualunque altro settore. Ora, a confronto il Parlamento e con i reti interessati, in questo momento Palazzo Chigi, servirà per migliorare un provvedimento, per dire incontro al settore edilizio che merita sostegno, ma in modo più naturo per creare una corozione che non è molto più la semplice scampata.